Dekigeemu, presenta erano state effettivamente pubblicate su alcune riviste americane ma dopo quella breve apparizione erano praticamente sparite quasi nessuno aveva mai tradotto ancora le sue storie in inglese o comunque in una lingua non incomprensibile se non che, come capita molto molto spesso, in Francia hanno, un paio di anni fa, hanno pubblicato questa sua antologia che raccoglie diverse storie brevi che sono qualcosa di davvero spettacolare davvero spettacolare per quanto riguarda i disegni di Shinobukaze perché come puoi vedere da queste tavole era un autore folle che disegnava queste storie a metà tra fantascienza lisergica e paranormale, surreale e quindi ogni tanto, in queste storie ovviamente dal tratto molto da B-movie anni 70 salta fuori con queste tavole splendide che potrei stare ore e ore ad osservare in ogni loro dettaglio mi ricordano molto appunto quei filoni di film ma alla fine anche di fumetti americani anni 60-70 in cui tutti si facevano di acido e quindi era molto comune trovare queste storie appunto ispirate alle droghe lisergiche anche se si narra che Shinobukaze non ha mai fatto uso di droghe ma tutte le sue ispirazioni le disegna nel suo stato naturale di follia nella stanza della sua casa dove ha costruito una specie di piramide in cartone e lui si mette sotto questa piramide in cartone per ricevere meglio tutte le sue ispirazioni esoteriche che gli permettono di disegnare cose come queste tra l'altro appunto è un bel mix tra la fantascienza comunque le storie di questo tipo tra l'America e il Giappone perché molte sono appunto fantascienza che mi ricorda un po' il film Zardoz non so se è presente quello con Connery in tanga con la pistola un film fantastico tra l'altro e invece per un'altra parte si ritrova molto lo stile giapponese del paranormale quindi di fantasmi che spesso vengono incanalati da studentesse da ragazzine con poteri paranormali e anche se ovviamente l'antrologia è tutta in francese me la sono sfogliata pagina per pagina senza neanche stare a tradurre i dialoghi perché per me la cosa splendida di questo volume di questo autore sono i disegni quindi la storia di per sé è molto superficiale non è che va a fondo con concetti particolarmente complessi da quanto ho visto e quindi anche se non so il francese e non hai voglia di stare a tradurti i fumetti con la app di Google Translate ti puoi comunque godere queste storie immaginando quali sono i dialoghi e guardandoti queste tavole disegnate da un artista davvero molto particolare infatti anche il suo tratto ricorda un bel mix tra il classico fumetto giapponese e gli autori americani di quell'epoca infatti quanto pare Kaze andò spesso negli Stati Uniti per girare le fiere del fumetto americane e trovare ispirazione per le sue opere e naturalmente come ogni altro autore di fumetti o film trash il bello di queste storie è non prenderle troppo sul serio ma amarle per questa loro esagerazione questi drammi, guerre, combattimenti talmente esagerati che riescono a regalarti un sorriso anche solamente pensando a chi è stato a disegnarle e a immaginare le situazioni assurde in cui ha fatto avventurare i suoi personaggi tra l'altro lo stile lisergico di Kaze mi ricorda un po' un altro autore che in Italia purtroppo non è stato cagato molto e infatti hanno iniziato a pubblicare una sua opera che si chiama Ultraaven però a un certo punto sono usciti solamente due numeri e poi è stata cancellata e anche lui aveva questo stile molto lisergico quindi c'erano delle tavole davvero fantastiche di piena allucinazione e qua in effetti la storia era tutta incentrata sulle droghe quindi era perfetto come stile mi ricordano sono due autori che in qualche modo condividono questo stile di disegno così in acido mi spiace che Ultraaven non sia mai stato completato da noi anche se devo dire che vista la sua storia così assurda e surreale la non completezza di questi volumi è perfetta perché ti lascia abbastanza con il dubbio se tutto quello che hai visto fosse stato vero oppure no se era un'allucinazione oppure era una realtà effettivamente così esoterica e surreale comunque magari un giorno ne parlerò meglio anche di Ultraaven tra l'altro mentre facevo un po' di ricerche su Shinobu Kaze ho scoperto che in realtà anche in Italia è uscito un volume designato da lui con una storia di Jig Robo classico cartone e fumetto di Gonagai se non ricordo male perché mi sembra che da giovane Kaze fu effettivamente un assistente di Gonagai e a un certo punto gli hanno fatto fare questa storia parallela con il classico Robo e non sapevo assolutamente che fosse uscito prima tra l'altro è uscito nel 2018 più o meno nello stesso anno in cui è uscita anche questa antologia francese e dalle recensioni che ho letto su Amazon di questo mini volume di Jig Robo disegnata da Shinobu Kaze praticamente tutte le recensioni gli danno un voto pessimo dicendo che è una storia con disegni bruttissimi in cui non si capisce niente mancano dei pezzi rimane aperta non si conclude neanche qualcuno non so perché la mette in relazione ai film di Tsukamoto come Tetsuo quindi solo da questi commenti credo che anche quel volume sia un capolavoro diciamo si preannuncia già come un capolavoro ho visto qualche tavola online effettivamente si ricorda molto cioè ovviamente lo stile è il suo ma ci sono anche lì in quel volume di Jig Robo delle tavole splendide come queste praticamente un'esplosione di sensi e immaginario più o meno disergico qui insomma nella descrizione del video poi ti metto ovviamente come al solito i link per recuperare sia questa antologia in francese sia il volume in italiano che è uscito su Jig Robo perché appunto sia che ti interessa o meno la storia di Jig Robo o se hai voglia o meno di tradurre i testi in francese se vuoi apprezzare i disegni entrambi sono assolutamente da recuperare tra l'altro appunto in Giappone di suo è uscita parecchia roba ovviamente è un autore diventato cult con il tempo e ha fatto cose appunto sempre più assurde strane c'è anche una specie di storia shonen con un classico combattente magico che deve combattere contro dei demoni o cose di questo tipo e anche lì i disegni sono qualcosa di spettacolare e credo che sia uno di quegli autori che appunto se a te interessa semplicemente per guardarti e godere da queste tavole assurde te lo puoi probabilmente prendere anche in giapponese senza troppi problemi a parte il fatto che magari non si trovano facilmente qua in Italia però tramite ebay o qualche amico che prima o poi riuscirà a tornare in Giappone magari riesci a recuperarti anche i volumi originali e quindi guardarteli, sfogliarteli pagina per pagina senza preoccuparti troppo della storia, dei dialoghi anche se naturalmente io mi auguro che in futuro anche in Italia qualche casa editrice riscopra Shinobu Kaze e comincia a tradurlo anche per il pubblico italiano visto che spesso il lettore medio non ha tanta voglia di comprare un volume in una lingua che non capisce e visto comunque che negli ultimi anni in Italia il yekiga e comunque autori adulti stanno avendo parecchio successo anche questo secondo me può essere uno di quelli che verrà riscoperto tra un anno o due e invece di venderlo come l'autore che ha fatto una storia di Jigoro Bo verrà rivenduto come autore del Surreale e grande artista dei disegni lisergici tra l'altro tra le sue storie pubblicate in Giappone ci sono anche dei racconti sulla mitologia greca con queste divinità greche disegnate nel suo stile e che quella mi sembra davvero spettacolare comunque insomma questa antologia Violence and Peace di Shinobu Kaze credo che sia davvero un capolavoro e è super consigliato se ami questo tipo di storie e soprattutto questo tipo di disegni quindi mi auguro che anche lui possa trovare un nuovo successo in Italia perché non è così strano come può essere un Takashi Nemoto e credo che con l'evoluzione dei gusti anche nel mercato italiano anche il suo stile di disegno può essere rivalutato anche da lettori un po' più schizzinosi che non sono abituati a disegni più strani poi appunto se hai voglia di sbatterti in fondo a questa antologia naturalmente c'è anche tutta una bellissima parte biografica che racconta di più sull'autore questo non l'ho ancora tra l'altro lui questo è Shinobu Kaze era anche un grande fan delle pistole infatti si vede in diverse storie la sua mania e voglia di disegnare le armi comunque grandissimo autore giapponese completamente folle e super consigliato sia in versione italiana con Jigrobo sia in questa mega antologia francese come al solito si è scoperto un autore particolare meno conosciuto che ti incuriosisce e se non sei già iscritto al canale di Gekigemo puoi dare un'occhiata agli altri video che pubblico in cui cerco di consigliare sia manga strani e meno conosciuti che videogiochi altrettanto strambi e dimenticati grazie per l'attenzione e a presto grazie per l'attenzione